Lorenzo Alberto Claris Appiani, 37 anni, è da considerarsi a tutti gli effetti elbano. Gli Appiani, infatti, hanno fatto la storia dell'Elba. Signori di Piombino regnarono dal 300 alla fine del 500. In tutta l'isola si trovano torri di difesa contro i Saraceni, costruite dagli Appiani. La più famosa è proprio la Torre di Riomarina, uno dei simboli del paese. Al di là di questo, erano tanti gli amici e conseguentemente i legami che il giovane avvocato manteneva con Riomarina e con l'isola, tanto da essere considerato un riese di fori, allocuzione con la quale in paese descrivono le persone che non abitano a Rio ma che periodicamente, specie d'estate, sono sul posto. Aldo, il padre di Lorenzo, ha fatto il medico a Milano per molti anni, poi si è appassionato alla produzione di vino ed è tornato nella terra della sua famiglia. ha ripreso la piccola azienda artigianale che il padre Virgilio aveva sul Monte Fico nella parte orientale dell'isola d'Elba e l'ha trasformata in una cantina moderna, quella dell'attuale azienda agricola Le Sugere. Aldo Clari Sappiani era molto vicino all'attuale amministrazione comunale. Questa mattina, alla notizia del tragico evento, il consiglio comunale che era in corso di svolgimento è stato sospeso per 15 minuti. La madre, Alberta Brambilla, avvocato anche lei, ne aveva probabilmente indirizzato la professione. Entrambi i genitori erano a Rio Marina fino a questa mattina e sono partiti dall'Elba con il traghetto delle Dieci, probabilmente hanno appreso la tragica notizia durante il viaggio. Lorenzo aveva lo studio in via Verziere 11 a Milano, era stato l'avvocato di Claudio Giardello e oggi era in aula come testimone nella causa per bancarotta contro l'uomo che lo ha ucciso sparandogli al torace. Lo racconta a Lanza, lo zio della vittima, l'avvocato Alessandro Brambilla Pisoni, arrivando al pronto soccorso del Fatebene Fratelli di Milano. Giardello era stato cliente di mio nipote, ricorda l'avvocato, poi aveva iniziato a combinare disastri e lui ha smesso di seguirlo. Sapevo che oggi mio nipote era in aula come testimone in una causa penale perché Giardello era stato denunciato. Conosco molto bene Aldo, una persona stimata in paese ma allo stesso tempo anche schiva e riservata. E' una persona che è andata in pensione e si è innamorato subito di Rio Marina e dell'Elba in particolare, tanto da mettere su un agriturismo e un'azienda agricola. E' un particolare che mi ricordo, un giorno l'andai a trovare in un periodo primaverile e mi disse, ah ti faccio assaggiare un vino che l'ho appena prodotto, mi ricordo che era un bianco molto profumato insomma, era veramente ottimo. Quindi prendo la bottiglia e leggo sull'etichetta Laurentius. Ma perché l'ha chiamato Laurentius? E lui mi dice il nome di mio figlio. Lorenzo è una persona alla quale sono legatissimo come tutta la sua famiglia, come Francesca, Aldo, Alberta, sono persone con le quali sono cresciuto insieme. Ho condiviso tutto. Mi piace pensarlo e ricordarlo nei momenti della giovinezza spensierata. Sai quando eravamo bambini o ragazzi giovani e passavamo l'estate sempre insieme al mare, in cantina da loro, come probabilmente sapete hanno un'azienda vinicola, no? Ci rivertivamo, facevamo gli stupidi, andavamo a vendemmiare, passavamo delle giornate molto molto piacevoli insieme e già la parola ricordarlo mi mette un po' di ansia, sai? Perché pensare che non c'è più è una cosa incredibile per me. Poi che sia successo in questa modalità qua ancora più duro. Sono abbastanza fatalista, no? Quando è la tua ora purtroppo te ne devi andare, ecco, però probabilmente quando ti colpisce questa cosa da vicino non è così semplice. Lorenzo era un'ottima persona, un professionista stimato e molto molto competente, ma era anche un grande amico. Lo stress quanto può incidere anche sotto il profilo medico, fisico, per portarti a fare una cosa del genere? Esco dalle vesti di amico e mi trasformo, metto le vesti di medico. Lavoro spesso e volentieri in situazioni di stress molto molto alto. In questo momento qua credo che ci sia proprio una problematica a livello sociale. Abbiamo perso tutti i nostri principi, abbiamo perso tutti i nostri valori, stiamo andando verso una fase di anarchia totale nella quale le questioni anche legate alla sfera professionale, la sfera lavorativa ci stanno soverchiando e purtroppo ci sono delle situazioni in cui questo stress diventa talmente tanto insostenibile che alcune persone purtroppo disagiate, credo, perché non credo che questa persona sia una persona che si possa definire normale, arrivano a fare questi gesti che purtroppo non dovrebbero accadere e spererei che in un futuro anche la giustizia riuscisse a tutelare i cittadini italiani in maniera un pochino migliore. E niente, una notizia che ha sconcertato, sconcertato tutti i paesani naturalmente perché vedo che ne stanno parlando anche loro, tutti quanti, è stata una brutta brutta notizia. E' Clariss Appiano, io come l'ho sentito nella notizia a telegiornale, ho detto ai Clariss che sono qui di Rio Marina. Conosco il babbo perché c'è l'azienda vinicola qui a Rio Marina e poi conoscevo anche il figlio perché presso a poco, a mia stessa età, lui è morto, aveva 37 anni, ho già 40 anni quindi, ma più che altro conoscevo il suo babbo perché era un amico di mio padre. E lo voglio ricordare così, abbracciato da tutti noi, un caro saluto, riposa in pace Lorenzo.